Buonasera a tutti da Brescello alla giocca Romano. Stasera mio padre ha voluto fare spaghetti con il pesto alla giocca e ho detto papà non me ne metto tanto il pesto perché io il pesto non tanto me lo mangio a me piace mangiare tutta la roba che ingatrisce la gola cioè in che senso sì mi mangio tutto mi dovete scusare per la voce perché sono senza voce devo recuperare un po di voce ragazzi giudamente ma ma sì non ce l'ho la voce però devo recuperare la voce per gridare meno ma dai da Brescello alla giocca Romano sempre a giocca Romano spaghetti col pesto alla giocca e voi sapete il pesto come consiste il pesto e tanti aromi cioè non so il pesto come è fatto boh eh che sa c'è boh orego no orego no orego no orego no va beh orego non si può fai a me maschio e pesto niente spaghetti con il pesto e formaggio magari cotto e mangiato ma dai vuoi questo è un pesto buono è della barilla ma dai il vero pesto è quello fatto in casa io l'ho assaggiato però m'ho fatto a cubi aprizi dai a ma dai un minuto ma dai ma dai ma dai ma dai oggi mio fratello ha preso un bel vino meglio di questo meglio di questo è un pesto il vero l'ambrusto ma questo qui non è l'ambrusto però m'ho fatto a stranico del pesto ma non perché l'ha preso mio fratello quando dico a cubi ve lo ripeto di nuovo così almeno io non è che pretendo mio fratello perché mio fratello oltre che prende il vino mi prende quelle sigarette eccetera eccetera ma non perché è il mio fratello e mi per questo perché lo fa con il cuore a cubi significa quella cosa costa meno che io non sto sto dietro a mio fratello perché anche mio padre mi fa un regalo a me eh però giustamente i ragazzi che mi fa mio padre io ce li ho in tasca i soldi ma a via dana non posso andare se vado a via dana rischio la multa oh devo aspettare i tempi che si sblocchi tutti speriamo così hanno detto madonna me mi devo fare una mangiata di alici e di frutta di mare ma dai che guarda mi devo sentire male ma mi a fare una miglia mangiata che nemmeno fumaginata ma dai e che a fare a me ci spogliamo a strasta ricotta e strasta ma papà mo sto parlando da solo sto dicendo facciamo su ma papà e me che mi facciamo un piettone e il mio padre deve dire a me come dice che il pezzo non vi piace e ora vuoi l'altro vabbè tanto faccio meglio mangiare di meno che non tanto se un po' cominciamo a far ingrazzare ma dai ma dai stasera stasera tutt'alto tutt'alto sapere che cosa mi devo fare voi faccio vedere che cosa mi devo fare ma dai piccolo tic non è niente sa che era verso tardi faccio mangiare di nuovo a mio padre e mio fratello e mia sorella pure ma dai che cosa ti faccio mangiare stasera la mia famiglia la mia famiglia da da sapete che sono questi qua le calciofe guardate odori che mangia un amico mio contadino mi ha dato tante calciofe ma dai ho preparato già l'olio qua l'olio girasole alla doc le uova che poi non ho cominciato oggi mi devo portare le altre le altre uova e l'altro olio dove ci siamo famiglia a fare la spesa devo aspettare due cento persone che vogliono andare due a tre volte dalla morte ma ma... ma... ma poi poi abbiamo... abbiamo il discorso è meglio se cambiamo discorso è meglio perché poi se non dobbiamo mettere i messi di nuovo avete capito che cosa perché c'è la folla hanno lutto ma non ti fa dissi ma non ti fa dissi ma non ti fa dissi una brutta parolaccia ma volevo dire una brutta parolaccia è me che non la dico la parolaccia perché se dico la parolaccia se dico la parolaccia poi non va bene perché ci sono pure i bambini che vedono i video e io i bambini non gli voglio dare un brutto perché i bambini se il nostro futuro è giudamente ovviamente modestamente cambiamo discorso ma dai è un affonuto mangiare se sarà più se fare un piatto ma dai ma dai ma dai MERE! Buono! Mare! Mare! Ma cosa cosa fare? Piccolo te, non è nello, perché tutti abbiamo un tic. Non è brutto avere un tic. Il tic ce lo siamo avuti dall'età di 5-6 anni. Non è una brutta cosa. Sarà che voi il tic ce l'avete più di me. Ma dai! Niente, fratelli e sorelle, signori e signore, amici, amiche, ragazzi, ragazze e nemici. Un saluto speciale a tutti i bambini del nostro futuro. Salutiamo il manager Alessandro, alla doc. Assolutamente oggi salutiamo, oggi, stasera, salutiamo il carissimo Andrea Locatelli e Domenico Astor, 1927. Alla doc! Vi voglio bene, vi auguro una buona serata a tutti, come sempre, più di prima, vi avverò. E niente. Dov'è venire, mamma? Dov'è venire! A me mangiare! Perché la voce si mua, si mua, si mua, c'è da mangiare cio, e c'è da mangiare cio! Mangiamo! Beviamo! Gli devoltiamo! Vi voglio bene! Uncchio! Ma dai! Scusatemi! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Ho detto a mio fratello, non è niente. Ho detto a mio fratello, io lo faccio per ridere perché voi dovete ridere. E se non ridete voi, non ridere io. Voi dovete ridere, non io. Io lo sai quando rido. Quando mi vado a vedere il video, e non rido pure io. Però quando devo fare un video a voi per farvi ridere, devo essere serio. Devo essere preciso e serio. Ho detto a mio fratello, papà, dammi un po' di vino. E poi la bottiglia, e poi l'avrei capire stasera la bottiglia. Più tardi, se ho sete, mi fa un po' di vino. Devo fare più tardi, devo fare le schiaccioffe. E vabbè, ha detto a me. Vabbè. Ha detto a me che non guidi però. Eh no, perché papà, sono... Scusa, a quest'ora devo guidare. Che è dolci da fare? Fa un freddo fuori stasera, mamma mia. E tutto stellato. Ma lo faccio freddo. Un bagno. Un bagno. Sopra una strupa. Ho visto una strupa. Dai! Alla doc. Alla doc, dai! Alla doc. Dai! di 5.000 visualizzazioni ragazzi mamma mia quando fate così vi amo vi amo vi amo comiamo la mia Claudia Claudia ti amo ah un'altra cosa mangiato bevuto e cagato cioè questo qui ascusa ma fammi capire la cosa ma come se il fitto vivono bene ma